dei grandi protagonisti della serata con la tua doppietta, insomma la Lazio non poteva certo avere una serata migliore Sì è vero, questa è una serata speciale, una vittoria che non veniva da tanti anni e sono contento di questa prestazione Lombardi, Crecco, Tunkara, sono tante però le stelle di questa squadra Sì sì è vero, siamo un gruppo favoloso e lottiamo tutti per lo stesso risultato Sono contentissimo e spero di andare avanti per le finali anche in questa maniera Un ringraziamento lo dobbiamo a Simone Inzaghi e magari pure ad Alberto Bollini Sì sì, particolarmente a Simone Inzaghi e anche a Bollini che ci ha cresciuto benissimo in questi due anni Soprattutto a me che mi ha allenato per due anni e lo ringrazio molto Abbiamo visto questa finale con la Fiorentina, non c'è stata storia, l'ha andata neanche a ritorno Ma adesso ci saranno le fasi finali del campionato, chi temete di più? No, non teniamo nessuno, siamo sicuri che possiamo far bene Puntiamo a rifare come abbiamo fatto l'anno scorso e magari rivincere lo scudetto